Sì, questo è un piatto in effetti che raccoglie un po' tutti gli elementi che rappresentano la centralità della dieta mediterranea quindi parlo di legumi che secondo me sono un po' la base della nutrizione tutti quanti dovremmo mangiare e che ahimè purtroppo soprattutto giovani e bambini rasentano mangiare questi ingredienti questi alimenti che sono, ripeto, lo ripeto tantissimo, in grassetto vanno consumati i legumi almeno due volte a settimana poi ho aggiunto i legumi, quindi la passatina di fagioli cannellini, presidio slow food, delle lenticchie croccanti, delle verdure disidratate e per rendere nobile il mio piatto ho aggiunto dei gamberi al vapore e marinati al mandarino bisogna mettere nel piatto una cucina concreta, una cucina non fatta da effetti speciali che non serve a niente ma quantomeno il piatto deve avere i cinque sensi, sicuramente la vista, il gusto e l'olfatto sono gli elementi essenziali poi siamo anche degli italiani, vogliamo mangiare con i denti quindi il giusto connubio tra la morbidezza della passatina di fagioli cannellini, il croccante delle lenticchie e la consistenza del gambero è un connubio perfetto